Ragazzi che gol che ha fatto Cogliarella, mamma mia No veramente, è stato un gol bello e difficile rispetto agli altri tacchi che vediamo di solito Ha dovuto dargli anche forza, non solo la deviazione che vediamo di solito, il tocco e basta Ha dovuto dargli anche quella forza per battere appunto Ospina Ospina poteva fare qualcosa di più, probabilmente il posizionamento ma secondo me non ci sarebbe comunque mai arrivato Per quanto riguarda la sconfitta del Napoli sono contento A parte l'odio sportivo che ho verso il Napoli, i napoletani, i tifosi del Napoli Sono contento perché l'arroganza loro Allora noi che abbiamo preso Ronaldo che è un giocatore, che è un protagonista quindi che è uno che va in campo e gioca Siamo i primi a dire noi giuventini con Ronaldo non hai la certezza di vincere tutto Ok? Compresa e soprattutto appunto la Champions League Invece loro prendendo Ancelotti Adesso non sto tirando sentenza alla terza giornata di campionato, c'è chiaro Però avendo preso Ancelotti facevano già gli arroganti Siamo contentissimi di Ancelotti, ci porterà di qua di là Il triplete Vabbè il triplete no però comunque parlavano già di Scudetto Parlavano già, sfotevano già noi E dicevano ecco poi quando hanno preso i gol e hanno rimontato contro la Lazio e contro il Milan Soprattutto che io dicevo ok avete rimontato però non è una buona cosa prendere così tanti gol Mi dicevano rosichi Classica frasetta rosichi Uno che vince da 7 anni di fila praticamente rosica Vabbè ho vinto da tifoso, da tifoso parlo 10 scudetti mi sembra 10 e rosico Vabbè comunque a parte questo Era un po' la stessa cosa che dicevo quando tipo 2 anni fa Il Napoli ne prese 4, non mi ricordo quanti dal Benfica E dicevo il Napoli ha un problema difensivo E molti Ma rosichi ma siamo passati, cos'è che avevamo fatto Erano passati, abbiamo vinto insomma tra andate e ritorno Poi sono stati eliminati non so se al girone o dopo gli ottavi Perché hanno fatto delle cagate difensive E allora lì tutti a scagliarsi contro la difesa I napoletani parlo che difesa di merda che abbiamo e quant'altro Però quando lo dicevo io rosicavo Questo è il napoletano medio Ma parliamo del tifoso italiano medio Vabbè Comunque Alan Solita partita impressionante che ha fatto Un'as ha fatto un'ottima partita pure lui Sono i due migliori in campo Probabilmente gli unici due che hanno preso la sufficienza oggi Per quanto riguarda Ancelotti ragazzi Cioè a parte il 3-0 di oggi Se tu sei sotto Vai sotto per tre partite di fila Qualche responsabilità ce l'avrà l'allenatore o no? Perché sembra veramente che quest'anno Ancelotti sarà intoccabile per i napoletani Sarà colpa di tutti se non dovessero vincere qualcosa Sarà colpa di tutti degli arbitri da Juventus Dei giocatori propri Per carità potranno dare la colpa a loro Appunto al presidente e quant'altro Ancelotti non verrà mai toccato Io ieri a Ronaldo Ho dato 5 5 Perché ho detto Ha fatto una bella giocata È normale che da lui mi aspetto qualcosa di più Perché con me non ci sono mai stati intoccabili Perché ho criticato pesantemente Gente come Del Piero Non facevo ancora video su YouTube Però l'ho criticato Del Piero Buffon E lo sapete benissimo Ho criticato tanta gente Con noi Che è stata bandiera Bandiera della Juventus E critico anche Ronaldo Se non gioca bene Se non fa Che poi Sono il primo a dire Che ci vuole del tempo per Ronaldo Però Giudicando la partita in sé Un 5 Secondo me se lo merita Basta Invece i napoletani Lo difendono sempre Ancelotti E questo secondo me è un grandissimo errore Per quanto riguarda Sampdoria Bene Benissimo Ekdal Benissimo De Frel Quagliarella ragazzi A parte il gol Ha fatto un lavoro pazzesco Forse è questo il modo che Probabilmente nel futuro Si potrà anche giocare Oltre al falso 9 Si potrebbe avere una prima punta Vera E poi un'altra prima punta Che però Tecnicamente è forte E valida E può fare il Il falso trequartista invece Quindi Perché Quagliarella ha fatto questo oggi E ha fatto un gol pazzesco Ha fatto davvero un gol D'applausi e basta Mi dispiace che si scusi sempre Però vabbè È una sua scelta Ekdal Barretto Cioè usciva molto bene Palla al piede La Sampdoria Quindi veramente Il Napoli invece Ha fatto tutto sto Poi i telecronisti Sky Devono sempre fare il paragone Napoli E Juventus Eh ma l'anno scorso La Juventus Cioè è ripartita Da un 3 a 2 Contro la Sampdoria Ha preso tre pere Contro la Sampdoria E poi ha vinto Praticamente lo scudetto Cioè Fanno di tutto Per Galvanizzare il Napoli Oggi infatti Ogni giocata del Napoli Era Un Continuo Segarsi tra i telecronisti Perché È veramente una cosa Vergognosa O probiosa Cioè Sky Veramente È caduto in basso In una maniera impressionante Poi c'è gente che dice Che I giornali Le emittenti qua Sono pro Juventus Ma ragazzi Ma ripigliatevi Cioè sono pro Non sono pro Napoli Sono contro La Juventus Cioè Qualsiasi squadra Giochi Contro la Juventus Ok Anche per quanto riguarda Lo scudetto Praticamente viene tifata Spudoratamente Dai teleconisti E non è Non potete dirmi Vabbè ma è normale Perché una squadra Che vince a tanto Non per le palle No Questa cosa Posso capirla Da tifosi Non juventini Ma tifosi E neanche tifosi napoletani O tifosi di altre squadre Però Non posso capirla Da telecronisti E da giornalisti Perché È da due o tre anni Che Caressa Ad esempio Ci fa due palle Così Con Il gioco del Napoli Ed è per quello Che Allegri Ha sbottato un po' Poi Ha detto Delle cose giuste Delle cose sbagliate Ma le ho già Analizzate Quelle cose Però Vabbè comunque a parte questo Il Napoli Non Non finisce oggi Assolutamente Ha tanto lavoro Da fare Ancelotti Come ce ne ha Come ce l'ha Allegri L'importante è aver comunque Portato a casa 9 punti su 9 E questo sicuro È un buon passo Un buon passo Adesso Trasciando Insomma Che siamo primi in classifica La classifica Adesso Come dico sempre Non conta un cazzo Conta semplicemente Il fatto Personalmente Che abbiamo portato a casa 9 punti su 9 Prima della sosta Per le nazionali Che rompono Sempre le palle Ma vabbè E niente Questo è Audero Il nostro giocatore Aveva fatto bene Fino all'ora Di gioco Poi ha fatto qualche cazzata Uscite sbagliate Non mi è piaciuto Tanto Secondo me Non è da 6 Per quanto riguarda Il resto Ripeto Sono contento E Sta bene Sta bene Ai napoletani Che Dicevano Grande cuore Quando io invece Quando andiamo sotto E poi ribaltiamo La situazione Anche Contro il Chievo Anche contro Qualsiasi squadra Contro il Real Madrid Ad esempio Che siamo andati a vincere 3 a 1 lì Ed eravamo sopra I 3 gol Al 93 Cioè io ho criticato Aspramente La partita d'andata Perché avevamo buttato via Lì la qualificazione Invece loro si galvanizzano Ed è questa la mentalità provinciale Perché noi critichiamo Anche se vinciamo Ma guardiamo più i lati negativi Per migliorare i lati negativi E portarli Dalla nostra parte E appunto Far sì che Diventino poi Lati positivi O quantomeno Limare un po' Ok Queste cose negative Invece I napoletani Basta il risultato Guardano il risultato E cambiano umore A seconda che Se vincono Pareggiano Perdono Invece Io ieri Ero incazzato E mi avete visto E molte volte Quando abbiamo vinto Ho fatto video Da incazzato Invece i napoletani Va bene L'importante è vincere Ma non è come Magari la Juventus Ok Vincere è l'unica cosa che conta Come diciamo sempre Però Dipende anche Come vinci Non significa Giocare bene O giocare male Significa avere Equilibrio Durante la partita Cioè È giusto attaccare Quando hai il possesso palla Come dice Allegri Qua Deve migliorare Però Con i dati di fatto Quando hai il possesso palla Devi essere bravo A attaccare lo spazio A verticalizzare Ad attaccare In poche parole E quando non sei in possesso palla Devi essere bravo a difendere Perché non puoi attaccare Se non sei in possesso palla Tutto lì Ok Bene Detto questo ragazzi Vi auguro buonanotte a tutti Sempre fino a fine Forza Juventus E questa sconfitta Sta bene Ai napoletani Secondo me Perché Non gli bastava l'inculata Dell'anno scorso Ripeto In culo gli entra In testa no Cioè Parlare prima Fare gli arroganti Quando non avete vinto un cazzo Questo comporta poi Buonanotte a tutti